Il Teramo sembra ormai aver scelto il suo prossimo direttore sportivo. A meno di clamorose sorprese, sarà Sandro Federico a sedersi dietro la scrivania biancorossa per costruire la formazione della prossima stagione. In realtà l'accordo, quello verbale c'è già da qualche tempo, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. E in caso di fumata bianca da quel momento in avanti, Federico spetterà a scegliere in accordo con la società il nome del nuovo allenatore. Tutti gli indizi, almeno per il momento, portano ad Ottavio Palladini, che con Federico ha un rapporto consolidato e che a San Benedetto ha dato i suoi frutti finché i rapporti con il presidente Rossoblu Fedeli non si sono deteriorati. L'ufficialità dell'arrivo di Federico a Teramo arriverà nei prossimi giorni, magari già all'inizio della prossima settimana e poi il diavolo dovrà sciogliere anche la riserva sul tecnico. Ci sarebbe anche l'opzione Luca D'Angelo, reduci dall'esperienza a Bassano. In questo momento però c'è anche una piazza in fibrillazione che attende con ansia le prossime mosse di Campitelli che potrebbe parlare presto e chiarire le linee per la prossima annata prima di prendersi un piccolo periodo di vacanza. Nel frattempo dovrà già aver sistemato l'assetto societario e tecnico in modo da arrivare ai primi di luglio con una squadra che abbia già una parziale ma nuova fisionomia. Anche perché il Teramo l'anno prossimo non potrà davvero più sbagliare.